Sì, buongiorno a tutti. Esatto, ci troviamo in casa del signor Giuliano e della signora Donatella Zazzari, genitori di Lorenzo, una delle quattro frecce azzurre che è riuscita in questa incredibile impresa dell'argento nella staffetta 4% stile libero, solamente dietro gli americani, che dire dopo ore di tensione adesso un po' la situazione, vado dal signor Giuliano, com'è? Ora la situazione è di euforia, un grande sogno per l'Italia e per questa squadra e sono molto contento del raggiungimento di questo obiettivo, siamo vice campioni olimpionici sulla staffetta 4% stile a Tokyo. Beh, come detto una grande impresa, però so che la passione a Lorenzo è stata tramandata, è stata trasmessa dalla signora Donatella, è così? Sì, sì, è così, perché io insegnavo nuoto e ho portato Lorenzo in piscina subito, a sette mesi era già in acqua e dai primi corsi che non voleva fare, non entrava in acqua volentieri, poi quando ha iniziato a fare il preagonismo prima e poi l'agonismo si è appassionato, perché è uno spirito competitivo, in questo è ripreso dal padre e gli piace l'adrenalina che viene dalle gare e poi ha avuto anche buoni risultati e quindi questo è stato da stimolo per continuare questa avventura. Un orgoglio azzurro naturalmente, un orgoglio toscano, in questo caso visto che siamo nel capoluogo di regione, un orgoglio per Firenze e per la Rarinantes Florenzia, questo lo dobbiamo ricordare, vero? Sì, soprattutto per la Rarinantes Florenzia, per i tecnici che hanno supportato Lorenzo, nella figura di Paolo Palchetti, Giuseppe Marrone e Giovanni Bosi, questo lo volevo rimarcare e un saluto grande che ha dato la sua disponibilità anche al nostro vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto, Pieri. Beh, doverosi naturalmente i ringraziamenti e per chiudere ricordiamo un po' però che personaggio è Lorenzo, perché se come si deve essere in vasca è spietato e dunque pragmatico, arriva all'obiettivo fuori, è un personaggio molto particolare, no? Molto estroso, vero? Sì, lui è amante dell'arte, ha fatto il liceo artistico e nel momento liberi si diletta con la pittura che fra l'altro gli serve anche per magari allontanarsi un po' mentalmente dall'impegno delle gare, dallo stress delle gare. È partito con l'iperrealismo per poi provare anche altre tecniche più astratte. Il soprannome? Zazzart, sui social, conosciuto come Zazzart, il nuotatore artista. Beh, abbiamo nucleato intanto la passione di Lorenzo, non solo per il nuoto ma anche per l'arte, qua abbiamo dei ritratti poi magari con calma potremo anche vederli. Come avete accolto questa... Magari poi se riusciamo a farli vedere, ecco, sto guardando intanto Roberto Bonciani qui dietro la telecamera, come avete accolto la notizia dell'argento? Perché insomma non ci credevate quasi, no? No, no. A essere onesti che la staffetta nostra alle Olimpiadi di Tokyo poteva essere forte e combattere, questo sì, però arrivare a una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo, a essere onesti, questo mi sembrava un po' difficile. Invece, seguendo il collegamento alle 5.15 la mattina sulla televisione, appena hanno vinto la medaglia d'argento, sono schizzato in alto perché ero contento e soddisfatto di questa vittoria. A proposito di schizzare in alto, possiamo vedere anche alcuni ritratti di Lorenzo, la signora Donatella ce li può mostrare, ce ne sono tanti altri, eccoli qua, prego. Questo è un autoritratto che ha fatto Lorenzo e questa invece è la sua fidanzata emiliana ed è un dipinto fatto a carboncino e questo invece è a pastelli colorati. Poi Lorenzo prova anche altre tecniche più iperrealiste. Bellissimi dallo studio, dicono signora. Lei ha dormito? Allora, devo dire la verità, che ieri ero in piedi a 10 alle 3 perché non riuscivo a prendere sonno. La gara c'è stata alle 5.05, 5.10, poi non abbiamo più dormito, quindi è stata una giornata esaltante per noi. Non avevamo nemmeno sonno, a dire la verità. Non avevamo sonno perché anche per noi l'adrenalina ci ha tenuto svegli. Io ho stentato anche ieri di notte a prendere sonno. Beh, che dire, tra tensione e adrenalina, ecco qua con i due ritratti, esatto, esatto. Un po' di incredulità, credo sia normale perché è un'impresa come giustamente stavate ricordando dallo studio storica, questo argento conquistato nel 4% stile libero. Io credo che un piccolo aneddoto per chiudere in bellezza, anche il signor Giuliano ce lo può raccontare. Sì, questo aneddoto che voglio raccontare e ci stavo riflettendo è questa, è questo. Questa medaglia d'argento è una medaglia soprattutto di Firenze, l'abbiamo vinta tutti, questa medaglia d'argento. E poi volevo ricordare che è l'unica medaglia storica del nuoto fiorentino della Rarinantes, è l'unica medaglia vinta per ora da un nuotatore. Sul nuoto. Sul nuoto, ecco questo lo volevo specificare. Quindi è pesante, siamo tutti contenti, viva Firenze. Viva Firenze, che dire, viva Fiorenza come si usa a dire qua nel capoluogo di regione. Io a questo punto, se mi arriva l'occhiera allo studio, posso ringraziare ancora i signori Giuliano e Donatella a Zazzari. Restituisco la linea. Buon proseguimento.